Musica Oggi partiamo dal capolinea di Gessate Linea metro M2, la verde, nella sua carta extraurbana Gessate è stata attivata nel 1985 col prolungamento della M2 da Gorgonzola Ora, tra Cascina Antonietta e Gorgonzola uno storico deposito è usato dai rotabili del metro La linea 2 ha tre depositi gli altri sono a Colonna Nord una semplice rimessa di convogli e a Famagosta dove vengono accantonate anche vetture di valore storico in attesa di decisioni Il deposito di Gorgonzola nacque nel 1928 come deposito della stella tra i rotabili delle linee per Paprio e Cassano Intanto stanno sfilando le varie interconnessioni col deposito Vediamo che a Milano il metro tiene la marcia a destra I treni in Italia marciano a sinistra e le auto a destra In Germania sia treni che auto marciano a destra Nel Regno Unito invece sia treni che auto tengono la sinistra Pensiamo poi alle differenze nella segnaletica o negli scartamenti La stazione di Gorgonzola fu attivata nel 1968 come prima tratta di 13 km in Tattasuna Robba delle linee celeri dell'altra Poi un raccordo portava alla superstite vecchia tramvia per Paprio All'inizio erano in servizio i tram Dal 1972 arrivarono i convogli in metro lasciando ai tram la Gorgonzola Vaprio Nel 1973 iniziarono i lavori di prolungamento del metro fino a Gessate Nel 1978 la superstite tramvia Gorgonzola Vaprio venne soppressa Il metro a Gessate come detto arrivò poi nel 1985 E' un videino sui tram questo da cui un uso intensivo di tendine in nero per saldare tratti anche lunghi di percorso del metro La tabella riporta i sei diversi lotti delle 176 elettromotrici e 88 rimorchiate della linea 2 Formano 88 unità di trazione cioè 44 treni vipoli di percorso del metro di percorso del metro L'intero impianto di questa stazione fa parte del bel viadotto fine anni 60 del novecento lungo 144 metri progetto ingegner Silvano Zorzi che scavalca il naviglio Marpesana Grazie a tutti Cernusco sul canale della Marpesana, canale che fu voluto da Filippo Mario Visconti e attivato dal 1443 per irrigare le campagne e azionare i mulini della zona con le acque dell'Adda Nel 1497 tal Leonardo da Vinci studiando sbarramente conche per superare il dislivello fece arrivare un naviglio Marpesana a Milano L'interland quella che fu una bella campagna attorno a Milano era costellata da cascine mondi agricoli dell'epoca ricche di storia veri e propri beni monumentati una cascina burrona come oggi e qualche pochi in fondo annetti fa un orgo di 20.000 abitanti che il naviglio Marpesana attraversa fu sede dei Visconti di Modroni il ramo della famiglia Visconti Ancora non ci imbuchiamo sottoterra iniziano per i bidari viadotti e sottopassi della cascina gobba cascina gobba un nome certo curioso per questa frazione forse per un muro storto della cascina in questione non era solo un porco agricolo questo nei primi del novecento esisteva anche un'ostaria l'antica trattoria della gobba naturalmente con giardino e sorgeva pure un biscottificio cascina gobba con la carival DFS è l'unica stazione metro ad avere quattro binari perché è la diramazione di 3,3 chilometri con la tratta per colonio con le tre fermate di colonio sud centro e capolinea nord la tratta per colonio è completamente fuori terra col primo tratto tutto in viadotto diramazione attivata nel 1981 si intravede la struttura tutta su sopra elevata della metropolitana leggera automatica che dal 1999 unisce la metro di cascina gobba con l'ospedale San Rampaele tecnicamente una funicolare orizzontale e una cabina a faraspola su un percorso di 682 metri e questo è il sovrappasso pedonale su quella bestia nera della tangenziale esta tra la metro 2 e la funicolare randavime arcate in transito a cascina gobba nel 1975 come al solito nessun commento all'imbecillità umana no no non parlo di chi imbratta ma di chi tutto ciò lo ha sempre permesso fra bla 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 promesse parole in Italia i depositi, treni, tramma di notte sono terra di nessuno e i risultati si vedono ecco era lo sfogo del ferrovipatico Aloysius Ager Crescensi cioè il campo di Crescensi e il campo di Crescensi La Cimiano, la vecchia tramvia interurbana, andava a Sire Rauno. Le ferrovie dell'Adda avrebbero dovuto sostituirle le tramvie interurbane, cioè la Miano Vaprio e la Miano di Mercati. Fu realizzata solo la tratta fino a Gorgonzola, prima gestita con tram, poi con la linea 2 del metro. Subito dopo Cimiano il metro scompare sottoterra. Arriviamo alla sfocata, è buio e luce per la mia videocamerina da regalo nei fustini dei detersivi, fermata di un dinero. Scendo alla fermata dopo Lambrate FS e lascio la linea 2 del metro con questa locandina della sua inaugurazione. All'esterno, nel piazzale della stazione, dovrebbero esserci i vecchi tram 1928 della linea 23 per Piazza Fontana. Ma qui ancora per qualche mese non arriveranno. Lavori per la nuova linea del metro in atto. Vado in stazione. Prendo il primo che passa per Milano Centrale, facendo obtorto collo buon viso ai dannatissimi finestrini sigillati. E' dal 2010 che i treni Tilo, acronimo di Ticino-Lombardia, arrivano a Milano Centrale. Tilo, impresa ferroviaria Italo-Svizzera, nato nel 2004 con lo slogan Il treno che unisce. 19 convogli FLIRT della Stadler, di tensione 15 kV alternata, 3 kV continua, a 4 casse, potenza 2600 kV, 160 all'ora, comando multiplo fino a 4 convogli. Telegrafico, come ogni volta che transito dalla maestosa centrale. Le tettoie, lunghe 361 metri, la maggiore larga 72, sono opera dell'ingegnere Alberto Fava, specializzato in strutture in ferro. La stazione centrale di Milano fu inaugurata nel 1931, progetto di Ulisse Stacchini. L'architetto, appena quarantenne, vinse il concorso per la stazione col suo progetto dal titolo In Motu Vita. Tutti conosciamo questa stazione centrale, ma com'era la vecchia Milano centrale? Era così quando fu inaugurata nel 1864 da Vittorio Emanuele II, ma era stata progettata e i lavori iniziati ancora sotto l'impero austro-ungarico. Aveva una tettoia in ferro e vetro, lunga 235 metri, larga 40, che copriva 6 binari, di cui 4 per passeggeri. Un vantaggio era una stazione passante, un grave svantaggio non era ingrandibile. Mentre esco sul lato che dà in piazza 4 novembre, mi sovviene una critica che fu fatta all'inaugurazione di questa stazione. Mancavano le sputacchiere. Bene, in piazza 4 novembre, nel mini simil giardinetto, c'è l'anello di ritorno del capolinea dei tram linea 9. di 7,6 chilometri fra stazione centrale e stazione di Porta Genova, per inciso. Era nel capitolo 1 Porta Genova. Le giostre dei tramai capolinea sono sempre un'attrattiva per me, ma solo una decina di biciclette più avanti c'è un vero gioiellino. Il Grattacielo Pirelli, o meglio il Pirellone, fu progettato nel 1950 e costruito fra il 1956 e il 61, firmato fra gli altri da Gio Ponti e Pierluigi Nerti. È un'opera del razionalismo italiano, detto anche Movimento Moderno, 127 metri d'altezza su 31 piani più 2 sotterrani, ed è ancora oggi uno degli edifici, notare, in calcestruzzo armato più alti del mondo. Nel 1978 il Pirellone fu acquistato dalla regione Lombardia come sede degli uffici. Nella Milano del dopoguerra, anni 55 e 60, la ricostruzione dopo le distruzioni del periodo bellico culminarono nei primi Grattacieli, il Pirelli appunto, e la Torre Velasca. Da notare che nel 1957 partirono anche i lavori della metropolitana M1, inaugurata poi nel 1964. E, com'era l'Aloisius nel 1961? Così, già fra i treni. Cominciamo bene, direbbe Giobbe Covatta, ma poi non serve andare lontano. Tram della linea 5, da Ortica, direzione Liguarda, linea di 10 chilometri. Avevano già 33 anni questi Tram Carrelli 1928, quando fu inaugurato il Pirellone nel 1961. La Torre Pareda, lungo via Pisani, 117 metri in 30 piani, architetto Luigi Maffioni, anno 1954. Quanta quattro. Quanta direzione a Ortica. Sulla mia destra, la monumentale facciata della stazione centrale. Sulla sinistra, la Torre Breda. Prendo un tram, direzione Liguarda. Sulla sinistra, la Torre Breda. Passiamo la giostra del Capolinea del Nove e siamo alla fermata su via Fabio Filzi con via Tonale. Svolgiamo su Viale Lunciana con l'omonima fermata. Passata la fermata con via Gioia, il grande rondò naturale in Piazza Carbonari inizia Viale Marche. Svolgiamo su Viale Zara. Allora carico... Allora carico... Allora carico... Grazie a tutti. 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 come sulle 28 la Carrelli a punto anche dovendo rinunciare a un 100% totale di piano ribassato ecco, era solo il semplice pensiero del semplicistico Aloysius anch'io un giro in giostra a un giro Il Sirio fischia, la 28 traballa e ondeggia per bene, non siamo mai proprio contenti. Ora nel ritorno tracerò, traballando per bene sull'ancora fantastica 28. Il Sirio fischia, la 28 traballa e ondeggia per bene, non siamo mai proprio contenti. L'imponente struttura dell'ospedale Niguarda Cagranda, progetto ingegnere Marcovici e architetto Arata, con opere d'arte di Francesco Messina e Arturo Martini. L'ospedale è attivo dal 1939, già allora occupava 322.000 metri quadrati con 17 edifici e 1.500 posti letto. Al tempo era legato amministrativamente al vecchio ospedale Cagranda del Filarete, cui accennavo prima, e del quale riprende parte del nome. L'imponenteuffy e- caratteristico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scendo al punto di partenza tra stazione centrale e Pirellone. Sento già che il metrò mi porterà in piazza Duomo a far turismo da provinciale. Al centro il monumento equestre a Vittorio Emanuele II, opera Ercole Rosa 1878. Di fronte alla facciata del Duomo, Palazzo Carminati, come era negli anni Cinquanta con la selva di insegne. Palazzo dei Portici Meridionali oggi e a fine costruzione, 1875 circa, con un isolato ancora in mezzo alla piazza. Proseguendo in senso anti-orario come il tram sullo sfondo, il Palazzo dell'Arengario, costruito fra il 1936 e il 1956, sulla facciata basso rilievi di Arturo Martini. Due corpi di fabbrica, si dice così, serie di arcate a tutto sesto, facciate rivestite di marmo di candoglia. I due semicorpi incorniciano in piazza Diaz il Palazzo della Terrazza Martini, anno 1956, uno dei circa 200 edifici realizzati a Milano dall'architetto Luigi Mattioni. Prima dell'Arengario era così, sullo sfondo Palazzo Reale, per molti secoli sede del governo della città, ora sede di mostre e esposizioni. Origini nel basso medioevo, il periodo dei Comuni, ma è nel 1773 che il Pier Marini, affiancato da Pollac, ristrutturò il Gran Palazzo, stile sobrio austero, inaugurando il neoclassicismo a Milano. Ora ripartiamo da Palazzo Carminati per terminare con un giro in senso orario. I portici settentrionali e naturalmente la Galleria Vittorio Emanuele II, che sbuca in piazza della Scala. Progetto Giuseppe Mengoni, stile eclettico, struttura in ferro rista, costruita fra il 1865 e il 77. Mengoni, ingegnere e architetto, aveva vinto nel 1859 un concorso per la sistemazione di tutta Piazza del Duomo. I lavori durarono 12 anni. Invece, i lavori per il Duomo di Milano, la celeberrima fabbrica del Duomo, è divenuta infatti sinonimo di lavori infiniti. La storia dunque iniziò con il progetto nel 1386, con la volontà di Giangaleazzo Visconti di edificare una nuova cattedrale. Eclatante e complessa costruzione gotica, uglie e pinnacoli. In pillole, la facciata fu terminata poi solo a fine 1800. E l'abside del Duomo dà in pratica su Piazza Fontana e torniamo ai tram. Però, però, prima di salire in tram, mi soffermo un momento per qualche transito. Da Piazza Fontana si può dare uno sguardo ai tram su via Larga, ad occhiare un bel campanile gotico, o attendere lo stridore di un sirio su stretti raggi di curvatura, pur a bassissima velocità. Scenario ben diverso ora in Piazza Fontana. Là, da me sempre apparezzata 28 se ne va, magari non fino all'Ambrate, come abbiamo visto prima. Bene, la sorte mi assegna dunque un Jumbo Tram serie 4900 della linea 15 per Rozzano. Dal finestrino lo sguardo va a questa scritta e alle 16.37 del 12 dicembre 1969. L'esplosione di una bomba nella banca provocò alla fine 17 vittime e oltre 80 feriti. La torre Velasca, costruita nel 1957, è magari un cincinino originale. Ma è il primo grattacielo meneghino che seppe guardare all'antico, il bello antico. Progetto di un gruppo di quattro architetti del razionalismo italiano, costruita nel 1957 e all'inizio del boom economico. Vuol richiamare la bellezza del tessuto medievale della città. Un medioevo aggiornato al ventesimo secolo, insomma. Cupola il retro di Sant'Alessandro in Zebedia e i diruderi della chiesa giapa leucaristiana di San Giovanni in Conca. Distrutta la prima volta dal Barbarossa nel 1162. Omissris è definitivamente demolita nel 1949. Mi trova con l'obiettivo impreparato la piazzetta con le chiese di Sant'Eufemia e San Paolo Converso. Mentre ora sfila Santa Maria dei Miracoli. Carliatidi nei palazzi, l'arabesco di Rotaia porta a Lodovica, dove non v'è più traccia di porta e archi. Le ultime mura demolite nel 1905, qui negli anni 30 con un gamba di legno per Pavia e prima anni 20 con la posa di binari. In via Pezzotti in sottopasso i binari della cintura sud ferroviaria, tra la stazione Milano-Romolo e lo scalo di Porta Romana. Poi il tram va su via Medeghino. Ad Abbiategrasso N2 invochiamo via Missalio. Una curiosità, questa linea 15 è stata il primo tram urbano nel 1992 ad uscire dai confini comunali. È infatti una linea urbana non extraurbana. Il sedime arredo urbano. Se poi gli arbusti non si tagliano o si estirpano e bene ricrescono, è semplice. O forse no. Questa è l'importante metotran via sud. Io invece i tram della linea 15 li ricordo a San Siro anni 70. E siamo il Gratosoglio, periferia sud di Milano, qualschiera recente, gli anni 60 del boom economico, con una forte richiesta di alloggio. Al Gratosoglio c'è l'anello di ritorno dei tram della linea 3. Al Gratosoglio Duomo, che vedremo. Asfalto ed edilizia di Milano cedono un attimo alla campagna e siamo a Rozzano, borgo di oltre 40.000 abitanti, sulla direttrice per Pavia. Soprappasso petonale, serve un parcheggio. Sottopassiamo quella croce edilizia che è la tangenziale ovest, raccordo autostradale. Qualche si dice un arresto ardito, ma non è forse vero che in passato il tramviere veniva chiamato Manetta? La torre Telecom di Rozzano, anno 1990, 187 metri d'altezza. Ascensore esterno dentro una struttura trasparente, ma dalla vista panoramica lassù sono esclusi i turisti. e facciamo un giro di giostra sull'anello di ritorno al capolinea di Rozzano. e facciamo un giro di giostra Il grattosoglio Prendere un trance alla linea 3 Tangenziale e Lambo Quanti mai i mercati regionali a Milano? Mi rispondo almeno 95 alla settimana Lasciamo fare la natura Verde Sirio nel verde Perché Milano è proprio bella in trama Dalla linea 15 alla 3 Per andare alle medievali colonne di San Lorenzo Sempre uno dei 100 Jambo serie 4900 Anni 1976-78 Questo 4906 su cui sono Quindi prima serie 50 covogli di produzione fia ferroviaria La seconda serie U di produzione stanga La seconda serie fermata di Abbiategrasso M2 la linea metro che parte da due rami gessate colonia nord diventa linea unica da Cascina Gobba a Famagosta dove si divide ancora in due rami uno con capolinea qui a Abbiategrasso l'altro a Forum a Milano Fior subito dopo Abbiategrasso Chiesa Rossa sulla sinistra c'è un anello di ritorno noi andiamo diritto a destra dalla linea 15 fermate dopo in via Meda anche la linea 3 sottopassa i binari ferroviari da Milano Romola a sinistra allo scalo Romana a destra stiamo arrivando a piazza 24 maggio quartiere ticinese due passi due sulla sinistra la darsena del Naviglio umiliata dal degrado di anni passiamo attorno a porta ticinese con l'omonima neoclassica porta del Cagnola primi del 1800 con gli annessi caselli d'Aziano delle murra spagnole anno 1560 cito solo che superate dal punto di vista militare vennero adibite a passeggiata panchine alberi per intenderci e il Pier Marini poi ne ricavò un bel viale sopraelevato e panoramicissimo infine divenute di intralcio le mura spagnole quasi scomparvero del tutto partire da 1850 intanto proseguendo lungo corso di porta ticinese arriviamo all'omonima porta ticinese quella medioevale conosciuta come porta Cica perché in origine aveva una sola apertura la porta fu rifatta da Zome Visconti dopo il 1330 fu però l'architetto Camillo Boito nel 1861 che la portò alle forme attuali aprendo i due fornici laterali or dunque per capire le prime mura di Milano furono romane poi nel 1156 mura in legno su terra pieni formati dalla terra di scavo dei fossati che stavano davanti e Barbarossa distrusse tutto per bene nel 1162 qualche anno dopo fu però edificata in muratura una nuova cinta quasi circolare naturalmente e anche essa ormai quasi tutta demolita quella dopo tutto questo cicerà siamo infine alle colonne di San Lorenzo 16 colonne alte circa 7 metri e mezzo in marmo con capitelli correnzi che sostengono la trabeazione le colonne sono reperti del periodo della Mediolanum romana secondo e terzo secolo dopo Cristo che provengono da un precedente tempio pagano furono qui trasportate per completare la basilica di San Lorenzo che era in costruzione i capitelli provengono da due edifici differenti però perché sono diverse per stile e dimensioni come le vediamo oggi le colonne sono l'assemblamento realizzato in epoca medievale anni 1000-1100 nota i binari del tram negli anni 30 correvano all'interno delle colonne nel vero e proprio piazzale della basilica e prima dei binari il piazzale era un intero isolato di case popolari i binari furono spostati nell'attuale sede negli anni 90 del 1900 la basilica di San Lorenzo Maggiore che oggi ci appare come una chiesa del Tardo 500 è fra le più antiche di Milano eretta a fine del IV secolo dopo Cristo con Milano già sotto il dominio dei Longobardi subì rovine e rimaneggiamenti lungo i secoli con grandi restauri fra il XII e il XIII secolo di San Lorenzo di San Lorenzo forse è sgrammaticato meglio pleonastico ma lasciatemelo dire a me mi piace ecco i tram nella storia intendo un angolo dell'antica Roma Milano ma non è forse vero che Mediolanum dal 286 al 402 dopo Cristo fu la capitale dell'impero romano d'Occidente quando Diocleziano decise di dividere l'impero in due sopra il fornice centrale madonna e santi rilievo gotico bottega di Giovanni di Balduccio ancora non mi decido a lasciare questa particolare esclusiva passarella dei tram non mi decido Grazie a tutti Grazie a tutti La porta ticinese a via Torino Capo linea in via Cantù Grazie a tutti Andrà a terminare in Piazza Duomo Grazie a tutti Grazie a tutti